Sono stati due giorni di proteste a Sant'Antimo con la sospensione del servizio di raccolta rifiuti. Un operaio questa mattina è salito anche sul tetto della casa comunale ed è stato salvato dall'intervento della Polizia Municipale e della Polizia di Stato. I lavoratori chiedono il pagamento di stipendi arretrati da parte del Consorzio Cite, ditta interessata però da una grave crisi economica e raggiunta anche da pignoramenti. Il Comune che ha in qualche modo, anzi nei fatti e per legge, una responsabilità anche nei confronti degli operatori che operano sul nostro territorio si è sempre attivato con procedure di sollecito nei confronti del Consorzio che è evidentemente in situazioni finanziarie veramente difficili. Lo sciopero era programmato, solo che ci deve essere una differenza tra agitazione sciopero, perché se pure l'agitazione diventa sciopero, cioè non si raccoglie, il Paese diventerà oggetto rapidissimamente di accumuli di rifiuti incredibili. Questa è una cosa che non possiamo consentire. Ora l'amministrazione comunale ha già avviato la risoluzione contrattuale. Prima di tutto abbiamo avviato, come lei diceva, la risoluzione contrattuale nei confronti del Consorzio. Ma io con una mia ordinanza ho disposto che se capitasse un'altra situazione del genere agirò in danno, cioè con altre aziende, con altra ditta, per garantire la pulizia della città. Il sindaco stamani ha incontrato le parti sindacali e si è impegnato a cercare di reperire i fondi per anticipare parte degli stipendi al posto della ditta che non riesce a pagare. Stamattina è cominciata proprio con un incontro, prima di tutto con i funzionari, per cercare di reperire risorse, per pagare anche parzialmente magari quanto ho dovuto ai dipendenti. Poi c'è stato un incidente dovuto all'esasperazione. Sono situazioni che mi fanno stare vicino ai lavoratori, anche se molti tendono a strumentalizzare in modo del tutto inopportuno, perché quando succedono queste cose tutte le forze politiche, sociali e anche gli stessi sindacati devono stare dalla stessa parte. Cioè noi dobbiamo fare in modo che, come dicevo, le parti deboli, soprattutto i lavoratori, riescono ad ottenere quello di cui hanno diritto.